Buongiorno a tutti, grazie davvero a tutti, oggi vedremo una nuova produzione di maia, con carne di maia, il ragazzo in giro, ok ragazzi, si va, ah, questo è il video, io faccio anche live su Twitch, se volete vedere in commenta, e venite su Twitch, mettete, forno, iscrivetevi al canal, ok, oggi prendiamo la nuova fabbrica di prosciutti, che sarebbe, docento stare, ecco la con la ponte, la sedia, ora ora prendiamo la ponte, la sedia, ora ora prendiamo la ponte, la sedia, e voi horsesinere? il nostro corso gratuito, un sacco di saluto il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Yeah. Yeah. Grazie a tutti. Yeah. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie.